Prima Radio Prima dei Poo dammi solo un minuto, non so se ti ricorda qualcosa o è qualcosa che magari non ascolti, ascolti cose magari più trap, più hip hop, non so, qual è la tua musica del cuore? No, sono rimasto alla musica i 10-15 anni fa, quando ero single, lo scorrossi, questa roba qua E allora, cari ascoltatori, insomma questa mattina l'abbiamo fatto inizio della stagione della carovana, l'abbiamo incrociato appunto in diretta, oggi ritorniamo a parlare un po' per fare il bilancio Avrei voluto fare il bilancio di un periodo in cui si ripartiva, ma Giovanni eravamo consapevoli che tutto ciò non avveniva in tempi brevi, non sta avvenendo Come state vivendo voi in aeroporto, avete vissuto il periodo delle feste e quello di oggi? No, la situazione continua a essere quella di qualche mese fa, nel senso che il trasporto aereo è pressoché fermo, perché anche la normativa ovviamente danno motivi per partire specifici di necessità o di lavoro e di quant'altro E nessuno in generale in questo momento ha una propensione, quindi continuiamo a fare numeretti, io vedo i numeri di ieri, si aveva 1600 passeggeri al giorno, quindi veramente modesto Anche perché c'è la mobilità interna, molti hub italiani sulla mobilità interna insomma ci campano, possiamo dire così La limitazione e lo spostamento tra regioni che continuerà sia nelle zone gialle, figuriamoci, nelle zone rosse come Lombardia e Sicilia che sono le due regioni che a quanto pare entro 48 ore saranno le due uniche regioni rosse E poi tutta Italia è arancione Sì sì no, quindi sicuramente c'è un'attesa ancora di questa situazione per qualche settimana Tanto che noi fino a un po' di tempo fa stimavamo una ripresa febbraio e marzo, ora l'abbiamo postergata L'aspetto positivo è che diciamo siamo all'ultimo mio, che poi sembra il più difficile, perché quando arrivi là vicino all'obiettivo dici finalmente ce l'ho fatta Però noi con le compagnie sostanzialmente abbiamo definito ripartenze, nuove tratte, aerei nuovi, c'è Volotea per fare esempio e metterà degli aerei che avranno 25 posti in più Quindi ancora più capienza, però il tema è che si va spostando, sembra che realisticamente la ripresa importante del trasporto debba essere ad aprile Ecco una delle cose che ti volevo chiedere, proprio in queste ultime settimane sono partite delle reclame, consentitemi questo termine un po' arcaico Un po' di pubblicità di compagnie aeree che già sono in prospettiva estiva Qualcuno dice, ma è strano, in un momento di piena pandemia, tra l'altro non sappiamo manco come va a finire e le vaccinazioni saranno fondamentali Com'è che le compagnie già stanno puntando molto su questo fattore marketing? Perché il settore aereo in America ancora di più, ma anche in Europa funziona con larghissimo anticipo Cioè un tedesco o un americano molto difficilmente organizzerà la sua vacanza una settimana prima Quindi c'è bisogno di molta programmazione, noi italiani magari arriviamo un attimo all'ultimo minuto In più le compagnie hanno gli aerei, faccio esempio il Ryanair, il Ryanair ha comprato con i 737 Max, che sono i voli, non so se ricordate che hanno avuto il problema Che ora l'hanno finalmente sbloccato, hanno 80 voli in più Quindi le compagnie programmano, perché giustamente se no uno smette di fare il proprio lavoro, sull'estate, in cui dovrebbe essere un'estate importante Io devo dire che genericamente, diciamo, sono ingegnere e non medico, però sono moderatamente fiducioso Perché è quello che dicevo prima, cioè il tema è quando, ma diciamo con la campagna di vaccinazione massiva È chiaro che ci sarà una diminuzione della curva A quel punto, un po' come è stato l'anno scorso, si riprenderà il traffico E quindi è normale che le compagnie facciano il loro lavoro E io spero, penso che quest'estate finalmente ci sarà veramente una mobilità importante Parliamo, stiamo parlando della stessa lingua, stiamo parlando della stessa lingua Perché per noi siciliani l'estate rappresenta il fulcro dell'economia nazionale Mettendo da parte il periodo natalizio che è andato come è andato Però gli arrivi in Sicilia sono una quantità tale che permette di risanare, secondo me, debiti pubblici Mettiamo da questo punto di vista Quindi sai, pensi a giugno come realmente una ripartenza Quindi resort aperti, alberghi aperti, locali aperti Ad oggi, siamo a metà gennaio, sembra quasi un'utopia Però tutto dipende da che cosa? Da chi quanti faranno i vaccini e soprattutto nel sistema di viaggio, nel sistema aereo I vaccini saranno fondamentali per chi deve partire? Allora, intanto ti do un numero Tu considera che noi abbiamo calcolato che i 7 milioni di passeggeri del 19 Hanno portato un pil territoriale di quasi 4 miliardi Più che debiti pubblici, debiti privati Nel senso che poi alla fine sono i ristoratori, gli albergatori, i negozi Per cui lo straniero fa la differenza Alla fine io penso, da questo punto di vista, che il lato aeroporto Noi ci siamo, come associazione europea degli aeroporti, ci siamo molto spesi anche per il viaggio sicuro Con i controlli in partenza Però è chiaro che se lo fai in un solo posto è un pilota Se lo fai come modello è un'altra cosa E ti devi strutturare Noi ci siamo strutturati perché come sai abbiamo in collaborazione con l'ASP Veramente in tempi rapidissimi Fatto questo Covid Center di oltre 1000 metri quadrati In cui tutti i passeggeri in arrivo e anche quelli in partenza Diciamo anche se non c'è una normativa specifica Però diventa un servizio per i passeggeri Possono farsi un tampone rapido gratuitamente Nella logica proprio del viaggio sicuro Quindi il sistema va in questo modo Gli aerei poi oltretutto c'è tutto un tema sui filtri Che è quello che all'inizio ha creato un po' di polemiche Non si capiva perché erano vicini C'è un sistema di filtri Stare in aereo è un poco come stare in una camera ospedaliera Per il sistema di ricambio aereo Tanto che nei voli europei c'è un'incidenza di malati veramente bassissimi all'interno dell'aereo Quindi sostanzialmente è un settore che si muove dal primo momento in questo senso I termoscanner, percorsi, tutto quello che abbiamo fatto Quindi continueremo in questo senso A tal proposito Alla fine dell'estate si imputava proprio ai viaggi l'aumento dei contagi Adesso invece dopo le feste di Natale Il problema non sono stati i viaggiatori Che minima parte comunque sono arrivati in Sicilia Di rientro, alcuni familiari Che ci sono stati molti controlli Vale per chi arrivava in nave Chi arrivava soprattutto in aereo Tutto si è spostato ovviamente all'interno delle famiglie Sappiamo benissimo che una delle cause di questo momento È che per le feste di Natale I siciliani in pratica hanno fatto Non hanno rispettato le regole Almeno una buona parte Diciamo che come modello Da un punto di vista teorico Il viaggio è sicuro al 100% Perché tu ti fai il tuo aereo Con il sistema di ricambiare che ci siamo detti E ti fai il tampone appena arrivi Addirittura col servizio pure quando parti Se vuoi lo fai Oltretutto sono stati fatti migliaia di tamponi al giorno Con un'incidenza anche abbastanza modesta di positivi Ma in ogni caso così i positivi sono stati isolati Poi io diciamo il tema non è la colpa di qualcuno Perché comunque siamo di fronte a una situazione C'è anche la sfiga Cioè nel senso uno dei contagi non è che è tutto colpa Quando uno ha sempre comportamenti non corretti È chiaro che c'erano delle regole L'ha detto Costa l'altra volta Mi pare di capire che a Natale non tutti le hanno rispettate Quindi diciamo io quando sono con mia madre Ovviamente uso delle precauzioni minori Ma io a parte con mia madre non le uso con nessuno queste precauzioni minori Con mia moglie ovviamente Dico quindi nel momento in cui i gruppi diventano di 20, 30, 40 E' un altro mondo Devo dire che lato trasporto secondo me abbiamo disegnato un modello Che è un modello sicuro Poi se la persona arriva non si fa il tampone Va se ne va in giro Ci sono stati pazzi che erano positivi C'è di tutto ovviamente Allora quella è l'eccezione della persona che non rispetta le regole Se io in questo momento vivo a Milano Devo scendere in Sicilia per motivi lavorativi Io arrivo all'aeroporto Non ho fatto tampone a Milano Perché sono riuscito all'inata a prendere il volo Atterro qui a Palermo A Palermo mi aspetto un tampone comunque obbligatorio Oppure deve essere sempre Allora c'è una normativa regionale Che ti dà una serie di possibilità Chiuderti a casa due settimane Farti il tampone in un drive-in Quindi tu hai delle possibilità in cui ti puoi muovere Sicuramente diciamo da normativa Se no vai contro diciamo reati amministrativi Non so se addirittura penali Non puoi andartene in giro a scorazzare Il servizio qual è? Tu arrivi Ti fai cinque minuti a piedi C'è quest'area di mille metri quadrati Covid center Ti fai una fila che in media è di 10-15 minuti Nei momenti di picco Se arrivate un'ora o un quarto Cioè i drive-in ci stanno sei ore Quindi delle performance eccezionali Devo fare i complimenti al personale dell'ASP Veramente che sta facendo un lavoro fantastico Ti fai questo tampone rapido Se è negativo a posto ti fai i tuoi giri Se è positivo poi si apre diciamo il tema dei controlli Ma vieni fra virgolette isolato Quindi secondo me è una comodità abnorme Cioè in questo modo tu Anche diciamo io con Costa Quando ne ho parlato anche nell'aprillo Delle persone in partenza Perché il concetto è di dare serenità in generale Cioè in teoria Ora in questo momento diciamo Per il colore che stiamo diventando Non c'è la possibilità della vacanza Ma anche qualche settimana fa Chi veniva in vacanza Se ti fai la vacanza Ti fai il tampone Sai che sei negativo ti senti anche meglio no? Assolutamente sì Se sei un inglese Se un francese Se spendi con più tranquillità E torniamo là I ristoratori e gli albergatori sono più contenti Noi è arrivato un messaggio Intanto ancora buongiorno Grazie per essere qua stamattina E allora È arrivato un whatsapp Allora Allora Rosi che ci scrive Buongiorno mia figlia proveniente da Parigi Con il tampone molecolare delle 48 ore L'unico controllo è stato chiederle Se avesse fatto il tampone Senza alcuna però dimostrazione L'arrivo per non perdere ore Nel luogo predisposto per il tampone volontario Vanno tutti via Scrive Ne voli nazionali Ne in partenza Nell'arrivo Nessuna richiesta di tampone Solo chi ha coscienza Li fa lo stesso Allora Vabbè Posto che dico Noi siamo i facilitatori Ovviamente con la struttura E che comunque ci sono messaggi vocali costanti Che dicono Diciamo Richiamano alla normativa E poi personale dedicato Come diceva proprio la signora Che indica Diciamo La necessità di fare il tampone Dell'aria Il tema è la responsabilità di ciascuno Cioè noi non siamo Diciamo In Cina No? Quindi se uno è positivo Ed è o è in quarantena a casa Sa che deve stare in quarantena Ma poi magari non lo fa E il discorso che facciamo prima Se Massimo puoi andare con due persone I giorni di Natale Poi ci sono stati le cene di 40 persone Quindi è la responsabilità delle singole persone Che deve esserci Io posso dire che Diciamo Noi abbiamo messo tutte le facilitazioni del caso Tutte le indicazioni del caso E i numeri sono stati comunque di migliaia di tamponi al giorno Quindi il servizio è stato abbastanza apprezzato Poi è chiaro che ci saranno i singoli Che si comporteranno Però là è un tema di sicurezza Di autorità sanitaria E quasi autorità di controllo Quindi sono ovviamente altri scenari È chiaro che secondo me Il tema è che ognuno dovrebbe avere questo senso di responsabilità Perché comunque Poi il rischio che fa In cui si mette ciascuno Diventa un rischio anche per gli altri Allora parlavamo prima della pubblicità Salutiamo chi ci segue da Modena Perché vedevo che c'era qualcuno collegato Ci mandava i saluti attraverso la pagina di Prima Radio Novità per il 2021 Qualcosa che ci vuoi anticipare Che riguarda proprio l'aeroporto La riorganizzazione Perché poi negli ultimi anni L'aeroporto si è anche strutturalmente Sì 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 Diciamo che parte il discorso che vi raccontavo Dei voli Nel senso che noi Non si sa quando Come dicevo prima Marzo, aprile Ma si è certi che si ripartirà Con tutte le compagnie Con nuove tratte E anche con nuove compagnie Rispetto a un paio di anni fa Ovviamente quella intercontinentale Noi avevamo United Che doveva partire Quelle hanno bisogno di tempistiche Molto più lunghe di programmazione Quindi probabilmente sarà il 22 Così come Tarkish Che doveva anche sa partire Anche quella probabilmente prenderà Un'ulteriore estate L'aspetto principale è quello degli investimenti Nel senso che noi Alcuni aeroporti Si sono fermati in questo momento Cioè hanno bloccato qualunque tipo di investimento Qualunque tipo di intervento Noi In una situazione ovviamente Di finanza Diciamo Di economica difficile Perché dopo anni Di utili e strautili Diciamo Da che partivamo Nel 2012 Si facevano 10 milioni di perdita Negli ultimi anni Con questa nostra gestione Si era totalmente Avuto un turn around Ad avere utili milionari Quest'anno ovviamente Con la pandemia E il crollo Avremo di nuovo Delle perdite importanti Però nonostante ciò Grazie al fieno Che abbiamo messo prima E grazie anche Alla credibilità Che abbiamo nei confronti Del sistema bancario Proseguiremo Nel progetto di investimenti Investimenti che poi Diventano investimenti di territorio Quindi A parte il terminal Che è in corso L'allargamento Da ora Dai prossimi mesi Si iniziano a vedere Dei sottocantieri Per poi essere completato Fra il 22 e il 23 Che è il famoso investimento Che darà 10 ristoranti nuovi 7 negozi 4 controlli Di sicurezza Il ristorante Vista Mare La sala VIP Vista Mare Quindi veramente Una svolta totale Diventerà un terminal Veramente Di grandissimo Servizio Apprezzabile Poi stiamo facendo Tanti investimenti Che magari abbiamo Rimodulato nella dimensione Magari spacchettando In due fasi Però l'obiettivo Che ci siamo posti È di dare Dei servizi Per delle nicchie Chiamiamole O particolari interessi Di passeggeri E rivalutare L'aspetto costiero Ad Amsterdam L'acqua tradizionale Qualificazione La costa Nel senso Noi abbiamo Una costa La fortuna Di avere un aeroporto Vista mare Che è una cosa Veramente unica Questo mare Dobbiamo utilizzarlo Quindi a parte Il ristorante Che ti fa vedere O la sala VIP Da cui tu sarai là Ti prendi il tuo cocktail Proprio riqualificheremo Creando un parco a mare Anche qua L'abbiamo fatto In modo modulare Quindi ci sarà Una fase 1 Che inizia intanto A farti un'area Che è utilizzabile Un piccolo baretto Arrivi la due ore prima Ti metti là Ti prendi In una bella giornata Diciamo di aprile di sole Ti metti là Ti prendi un aperitivo E poi parti Oppure se stai aspettando I tuoi parenti Magari ci vai la sera prima Ti prendi l'aperitivo Poi te ne vai a cena Vista mare Poi te ne vai a dormire Nell'albergo E alle 6.40 C'è il volo Una vacanza Che comincia già in aeroporto La logica è quella Che poi è una logica Cioè Amsterdam Il numero 1 Poi con una visione Soprattutto business L'ha fatto È una logica Di creare Un aeroporto Come hub Economico sociale Da noi diventa Cioè dobbiamo utilizzare Le nostre leve di forza Che quindi sono Sia la socialità Che il verde Il mare Quindi valorizzare Veramente questi posti Poi ci sarà Un ponte Diciamo che collegherà Appunto il terminal Con quest'area verde Che faremo un attimo dopo Che però renderà Caratteristico Diciamo L'area Quindi Saremmo tale Che chi verrà Da Norimberga Da Valencia In vacanza Subirà Sono arrivato a Palermo L'aeroporto L'aeroporto era bellissimo Ho preso l'aperitivo Là Una cosa unica Poi ci dice Sì 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 Sono arrivato Dovevo andare A Cefalù Ma sono rimasto Una settimana In aeroporto E sì Ma è successivo All'imito Non c'è problema Non ci siamo Insomma Bellissime prospettive Ma soprattutto La volontà di ripartenza Degli italiani Dei siciliani E di chi arriverà qui A visitare Perché significa Portare economia Quello L'augurio E ovviamente Staremo qui A monitorare A commentare Quando tutto ciò avverrà Oltretutto Nella logica Proprio dell'economia Una cosa che rilasceremo Quest'anno È un'area cargo Perché Il cargo Vabbè Diciamo Lo sviluppo di commerce Ovviamente Tutti i fenomeni macroeconomici È una tematica Che diventa sempre più rilevante E noi come aeroporto Abbiamo avuto Quasi un raddoppio Dei volumi cargo Nell'anno Nell'ultimo anno Quindi Dedicheremo Un'area ad hoc Che renderà più facile Quindi circa Mille metri quadrati Che renderà più facile Diciamo tutto Del sistema cargo E faciliterà anche Le aziende siciliane Nell'esportazione A proposito Se per motivi di sicurezza Non vuoi rispondermi A questa domanda I vaccini Stanno arrivando in Sicilia Anche attraverso L'aeroporto Sbaglio Qualche carico arriva Sì Assolutamente Sì Ti è capitato Di assistere Allo scarico Di Sì Il primo Di Pfizer Sì Sì Emozionato Ancora solo Devo dire che Io Mi ricordo Il primo carico Di Di mascherine Che arrivò Un Antono Non mi ricordo Un volo enorme Pieno Fu una sensazione Strana Perché mi sentivo Mentre Erano le 4 di mattina Una cosa allucinante Mi sentivo in guerra Nel senso che Dico che è una cosa Pazzesca Distanziato Dalle persone Dalle persone Aeroporto C'erano alcuni Mi dicevano Presidente Ma perché Lei è cosa Distante Perché dobbiamo Sare distanti Invece L'arrivo dei vaccini Mi è sembrata Tipo La libera Come quando Gli americani Nel 43 Sono arrivati In Sicilia E' arrivato Un carico Di armi Fondamentalmente L'unica Che abbiamo Per combattere Questa E' così E' così Arriverà Non solo Pfizer Che è già arrivato Però Aspettiamo Moderna Aspettiamo Gli altri Speriamo Speriamo Questo Vabbè Io qua credo Dico A meno che Non succeda Chi sa cosa Ma tutti I studi Dicono Che comunque Questa è la soluzione Poi il tema E il timing Quale sarà Prima è meglio Però L'importante Che ci arriviamo Allora Io ti ringrazio Come sempre Questo rapporto Tra noi Prima radio E l'aeroporto Continua E cioè Stato sempre Negli ultimi anni Anche perché Siamo quasi vicini Di condominio Sì sì Noi da qui Parti Nico Arriviamo lì Insomma abbiamo Pochi minuti Pochi minuti Grazie a Giovanni Scali Amministratore delegato Grazie Grazie a voi Prima radio